buongiorno a tutti vi presento su monte d'inverno questo è il periodo di dicembre le montagne sono cariche di nuvole ci si appresta a una grande burrasca d'acqua che qui siamo abituati per le burrasche d'acqua vedete le montagne di fronte piene di nuvole da ragazzo salivo su quelle montagne a giocare con i miei amici e poi si ritornava sulla torre a continuare a giocare da ragazzino sicuramente quanto ero ragazzino benissimo vi saluto ciao ciao mario